Una buona serata, bentrovati ad una nuova puntata di Alimenti Ferma Tempo. La natura è un medico infallibile. Con me ho il piacere di avere Gian Paolo Tocco. Buonasera. Buonasera e grazie per l'invito, Barbara. È sempre un piacere, come dicevo. Allora, Gian Paolo, partiamo col dire che l'obiettivo un po' di tutti, diciamo la verità, è quello di vivere bene, di vivere a lungo e di vivere in salute. La natura ci viene sempre incontro, lo abbiamo detto più volte e dobbiamo sottolineare un concetto fondamentale che senza natura noi non potremmo nemmeno vivere. È così? È esattamente questo. Sì, l'obiettivo di qualsiasi essere vivente, in particolare almeno di un essere vivente cosciente e intelligente con una memoria collettiva, l'uomo, che si distingue da qualsiasi altro essere vivente. Non ha più diritti degli altri, ma è diverso dagli altri. È il terzo Big Bang. La coscienza, l'intelligenza, la memoria collettiva. Ce l'abbiamo solo noi umani. Usata malissimo, ma ce l'abbiamo solo noi. L'obiettivo degli esseri viventi, degli uomini, degli umani è vivere più a lungo possibile e si può vivere ben oltre i cent'anni. Tutti avremmo diritto. La natura dà a tutti il diritto e gli strumenti per vivere ben oltre i cent'anni. 118-120 anni. Lo dice il professor Heiflich. C'è un libro bellissimo, Il limite di Heiflich, in cui ci spiega perché, come, con quale calcolo matematico-biologico, ogni essere umano può vivere 118-120 anni. Poi ci sono scoperte scientifiche che ci dicono perché non viviamo 120 anni, perché ci ammaliamo, perché perdiamo energia. Ma l'obiettivo degli esseri viventi è vivere più a lungo possibile in piena energia, quindi non sopravvivendo, ma vivendola la vita, senza malattie e senza dolore. Vedete, questo obiettivo lo si può raggiungere in vari modi e in questi ultimi 40 anni, 45-50 anni, la televisione, i giornali, insomma mille strumenti di informazione si sono messi a disposizione di potentati economici che hanno capito che questo argomento poteva essere fonte di immensi guadagni. E allora tutti ci hanno investito con i loro consigli, con i loro convincimenti, con i loro condizionamenti, dicendomi, dicendoci cosa dobbiamo fare per vivere di più e per vivere meglio, cosa dobbiamo fare per configgere il malattio, per non farci aggredire dalle patologie. E per sempre hanno portato come notizia quella che la natura può essere una scelta alternativa, può essere un adiuvante, può essere un aiuto, si può integrare il frutto della natura alla farmacologia, alla chimica, alla medicina ufficiale, dogmatica che io rispetto e che io ammiro e che per fortuna c'è ed evolve. Ma non è la nostra primaria forma di protezione e di cura. La primaria fonte della nostra salvezza e della qualità della nostra vita, oltre che della durata, della longevità a cui aspiriamo, è la natura. Vedi, io non voglio né consigliare le persone, perché non ho le vesti per consigliare, né condizionare, io voglio informare. Nel 2009, una dottoressa, la dottoressa Blackburn, prende un premio Nobel perché fa una scoperta che io reputo la più importante degli ultimi secoli. Scopre all'interno del nostro organismo i telomeri. I telomeri sono fattori protettivi dei guantini che i nostri cromosomi indossano e per mezzo dei quali, telomeri, i cromosomi vengono protetti dalle aggressioni. Proteggere i cromosomi significa consentire all'uomo di vivere veramente quei 120 anni. Proteggere i cromosomi significa consentire agli esseri viventi, tutti, del regno animale, di non contrarre malattie, di ritardare il processo di invecchiamento. Perché si consumano i telomeri? Quindi, perché rimangono scoperti e non protetti i cromosomi? Quindi, perché si accorce la nostra vita e moriamo a 70-80 anni e non a 120? Perché cominciamo ad ammalarci prestissimo e non dopo i cent'anni, come Blackburn ci dice, dovrebbe accadere? Perché i telomeri, questi guantini che proteggono i cromosomi, si consumano. Consumandosi, espongono i cromosomi alla consunzione, si degradano. Noi invecchiamo prima, ci ammaliamo di più, abbiamo i dolori. Ma chi è che compromette la qualità dei telomeri? Lo stress ossidativo e il processo infiammatorio. E chi determina queste due cause terribili, che mi fanno invecchiare, mi fanno ammalare, mi fanno avere i dolori, mi compromettono l'attività del fegato, dei reni, del cuore, della circolazione sanguigna, dell'intestino, del cervello? Beh, tantissime cose che avvengono quotidianamente nella nostra vita. Che sono anche fisiologiche. Ma certo, lo sport, oltre al fumo, gli zuccheri, i grassi, ma lo sport, le preoccupazioni, i disagi, le tristezze, le ansie, molti alimenti, gli zuccheri, tantissime cose, portano nel nostro organismo quotidianamente ossidazioni, infiammazioni. Possiamo evitare queste cose? No. Sono processi inevitabili. Sono processi, nella maggior parte, inevitabili. Va bene, smetto di fumare, ho smesso di fumare. Va bene, non bevo più il coso. Va bene, bevo meno caffè. Va bene, farò... Ma le preoccupazioni, le tensioni, le ansie, non dipendono da noi. Ogni giorno, ogni ora del giorno, per tutta la vita, innescano processi infiammatori e processi stati infiammatori. Sono quelli che compromettono i telomeri, consumano i telomeri. Quindi... L'infiammazione e l'ossidazione. Ossidazione e infiammazione. Siccome non posso evitare i fattori che determinano queste due gravi situazioni, devo ricorrere a delle sostanze che azzerino, annientino o quantomeno riducano gli effetti negativi dell'ossidazione e dell'infiammazione. Quindi che rallentino l'invecchiamento, fortifichino il mio organismo ed eliminino sul nascere con gli stati infiammatori che sono la causa di tutte le malattie. E sono due alimenti. Non ce li dà la tecnologia, non ce li dà la moda, non ce li dà la filosofia, non ce li dà la matematica, non ce li dà la scienza medica, non ce li danno i farmaci, ce li dà la natura sotto forma di alimenti. Posso o non posso affermare che la natura, i vegetali, sono la nostra farmacia più fornita, sono il nostro medico infallibile, sono la nostra fonte di salvezza, almeno fisica? Ecco, è un'informazione che va data. Io non voglio convincere che la natura è nostra madre, è il medico infallibile. Io voglio informare che un premio Nobel scopre i telomeri, che ci dice che se proteggiamo i telomeri la nostra vita dura di più, la qualità della nostra vita aumenta, le malattie le scongiuriamo o comunque le contraiamo con una frequenza molto inferiore e se le contraiamo siamo in grado di combatterle. Lo dice una dottoressa, non un naturopato, un erborista, lo dice una bravissima ricercatrice, una scienziata che si chiama Elizabeth Blackburn, che con l'onestà intellettuale dei grandi scienziati non si mette a difendere il farmaco, la medicina, piuttosto che con l'omeopatia o l'erboristeria o la pranoterapia. No, si allontana da queste etichette, dice la verità. Tra l'altro, Gian Paolo, una scoperta davvero importantissima di cui di fatto poi non si sente neanche parlare così tanto. Non si sente parlare così tanto perché è come se scoprissimo un giorno che possiamo spostarci di mille chilometri in due minuti senza spendere una lira, avremmo abbattuto interessi commerciali enormi che sono quelli della motilità. Automobili, aerei, cioè, ti ammazzano. Il giorno che spieghi che si può vivere senza denaro, ti ammazzano. Il giorno che ti spiegano che si può vivere senza energia elettrica, ti ammazzano. Il giorno in cui spieghi e divulghi che si può stare bene in energia e toglierci i dolori, le infiammazioni, rimettere in funzione l'organismo e vivere molto più a lungo con due alimenti, beh, metti in crisi un sistema economico e finanziario spaventoso. Il mercato della salute è più importante del mercato del petrolio, dell'energia e dei diamanti e dell'oro. È un mercato infinito che si traduce in miliardi di fatturato e perché? Perché consiglia e condiziona le persone all'uso della chimica per risolvere qualsiasi cosa. Benissimo. Dicevamo dunque, Giampaolo, due alimenti. E di questi due alimenti parleremo tra pochissimo dopo una breve pausa pubblicitaria. Molto volentieri. Il laboratorio ringiovanimento di erbe medicali presenta gli alimenti fermatempo che ringiovaniscono l'intero organismo proteggendolo contro quasi tutte le malattie. Gli alimenti fermatempo ringiovaniscono l'intero organismo proteggendolo contro quasi tutte le malattie. Energia, benessere e salute, senza dolori e infiammazioni. Non è un sogno? Oggi è la realtà scientifica che rivoluziona la tua vita. L'ossidazione e l'infiammazione, infatti, sono le cause di quasi tutte le malattie, dell'invecchiamento e del dolore. Il redberry palustre selvaggio del Quebec e la curcumina vegetale HBA dell'isola di Java sono i due alimenti fermatempo. Anti-infiammatori e antiossidanti che ringiovaniscono l'organismo e proteggono dalle malattie. Eliminano la stanchezza e tolgono i dolori muscolari e articolari. Nel laboratorio ringiovanimento di erbe medicali nascono gli alimenti fermatempo, per la salute, il benessere e l'energia, a qualsiasi età. Chiama subito per verificare la disponibilità dei prodotti e prenotare l'offerta speciale di oggi. Gli alimenti fermatempo, oggi, in offerta a kit famiglia. Tre confezioni di USA Redberry più una confezione di curcumiele da 110 grammi in offerta speciale a soli 99 euro, invece dei 151 euro del listino. Ma non perdere l'offerta Bonus Salute Alimenti Firmatempo, che oggi consente di acquistare 6 confezioni di USA Redberry più una confezione maxi di curcumiele da 230 grammi a soli 179 euro, invece dei 308 euro del listino. E su tutte le offerte la spedizione è gratuita! USA Redberry, a base di Redberry Palustre Selvaggio del Quebec e Curcumiele. a base di curcumina vegetale HBA dell'isola di Java. Sono i due preparati alimentari che da oltre 27 anni consentono ai nostri 38.000 assistiti di stare bene, in energia, in piena salute, senza dolore di alcun tipo. USA Redberry e curcumiele sono i tuoi alimenti fermatempo, senza effetti collaterali e privi di controindicazioni. Assumili tutti i giorni! Da uno studio della dottoressa Blackburn, premio Nobel per la medicina, nascono nel laboratorio ringiovanimento di erbe medicali gli alimenti fermatempo, a base di Redberry Selvaggio del Quebec e curcumina vegetale HBA dell'isola di Java. I miei alimenti fermatempo, USA Redberry e curcumiele, sono alla base della salute, del benessere e dell'energia. Le sostanze naturali che utilizziamo per realizzare gli alimenti fermatempo provengono esclusivamente da aree totalmente incontaminate del pianeta. Ecco perché gli alimenti fermatempo del laboratorio ringiovanimento di erbe medicali funzionano davvero, funzionano subito! Benissimo, siamo rientrati in studio. Dicevamo, Giampaolo, appunto, che chiaramente l'obiettivo di tutti è quello di vivere a lungo, ma non solo, perché ci arriviamo a volte, qualcuno di noi ci arriva a vivere a lungo. La cosa importante adesso è il passo successivo, ovvero vivere a lungo, ma anche bene, perché purtroppo sappiamo che a volte, insomma, si raggiungono delle età notevoli, ma in condizioni non ottimali. E dicevamo come la natura sia fondamentale. Ci sono in particolare due alimenti che lei non ci ha ancora svelato, che in realtà ci aiutano molto, ci aiutano, diciamo così, a rallentare il nostro orologio biologico. In maniera formidabile, e mi consenta, voglio ancora sottolineare, il mio non vuole essere un consiglio. né vuole essere un condizionamento. Perché vede, se io chiudo le due mani e in una dei due pugni c'è un brillante da dieci carati, vedo che le luccicano gli occhi, c'è un brillante da dieci carati, nell'altra c'è un cecio. E io le offro tre possibilità. Vuole che le dia un consiglio su cosa scegliere, vuole che la condizioni su cosa scegliere, o vuole che le dia un'informazione su dove è il diamante. Perché io posso dirle, Barbara, le consiglio la mano destra. Su che base? Lei si deve fidare di me. No, non si fidi. Io posso condizionarla. Tutti scelgono la destra e vincono sempre, quindi, ma non c'è certezza. Se lei mi dice, Gian Paolo, mi dia un'informazione, dov'è il diamante? Io le dico, è qui, sulla sinistra. Lei ha la possibilità di scegliere. Non voglio il diamante, voglio il cecio, scelgo la destra. Voglio il diamante, scelgo la sinistra. Io l'ho informata. Ecco, quello che sto facendo, io mi occupo di, sono nel settore della salute da più di 50 anni. Non avevo ancora 20 anni quando ho cominciato a muovermi nel settore della salute. Sono sempre stato un entusiasta e forse ho fatto qualche errore. Cioè, manifestavo con grande vigore, con grande entusiasmo, i miei convincimenti. Poi maturi negli anni e capisci che i tuoi convincimenti sono i tuoi. Tu ricerca, fai ricerche serie, oneste, etiche e svela con correttezza e onestà ciò che hai scoperto. Quindi, se hai la verità, dilla, se no stai zitto. Così diceva mia madre. Se ti chiedono qualcosa perché sono curiosi della tua vita, puoi dirgli quello che vuoi. Ma se devi dire qualcosa, se vuoi dire qualcosa, devi dire la verità, se no stai zitto. E siamo davanti ad una verità che ha sconvolto il mondo inizialmente mio, quando qualche decennio fa ho cominciato a leggere della dottoressa Blackburn. Successivamente, poi dal 2009, in maniera sconvolgente, quando in maniera chiara siamo stati informati che la natura può risolvere ogni nostro problema. Lei sa che da decenni io mi occupo di sostanze naturali per risolvere problemi specifici. Noi abbiamo in azienda prodotti che non nomino, ma che funzionano perfettamente, se no non si rimane 50 anni sul mercato, con migliaia di assistiti, se non porti prodotti che funzionano. E ci siamo sempre dedicati al dolore, con delle sostanze come l'artiglio del diavolo, l'arnica montana, la vite rossa per la circolazione, con sostanze naturali che risolvevano il problema. Risolvevano il problema. Una sostanza naturale risolve un problema di salute degli umani e già questo sconvolge. Com'è possibile? Allora non è un caso se nella natura ci sono sostanze che aiutano il mio cuore, la mia circolazione sanguigna, le pareti delle mie arterie, le articolazioni, i muscoli, il fegato, i reni. Ogni cellula che compone il mio corpo ha nella natura una sostanza che l'aiuta. È il miracolo della creazione. è la logica matematica scientifica di una creazione perfetta. Il non plus ultra, la cosa che lascia stupiti, è proprio questa. Che le due cause principali di quasi tutti i nostri problemi vengono combattute con due alimenti. Il redberry selvatico di cui da 30 anni parlo e che da 30 anni io porto in Italia dai miei terreni del Quebec è la curcumina dell'isola di Java. Deve essere una curcumina trattata in maniera particolare perché la curcumina non ha grande biodisponibilità. Deve essere resa biodisponibile, cioè dobbiamo renderla in una forma che il nostro organismo sia in grado poi di assimilare. Ecco, il redberry selvatico è il potentissimo antiossidante. Contiene quel mix di antiossidanti perfettamente bilanciati fra loro perché non c'è un antiossidante. Ci sono, la famiglia degli antiossidanti è vastissima. Il redberry selvatico è una bacca straordinaria, meravigliosa, che noi raccogliamo, è selvatica, che noi raccogliamo nei miei terreni in Quebec, purtroppo è pochissima, ma ha in sé un mix ben equilibrato di tutti quegli antiossidanti che svolgono l'azione di antinvecchiamento. Tra l'altro in un'area incontaminata. In un'area incontaminata del pianeta, stupenda, in cui non c'è intervento di chimica, non ci sono fertilizzanti, non ci sono prodotti chimici o diserbanti o per gli insetti. Tutto funziona come la natura vuole che sia. Che cosa fanno queste sostanze? Cosa fa appunto il redberry e la curcumina? Ripulisce il nostro organismo dalla ossidazione. L'ossidazione è la ruggine. La ringhiera, la cancellata, la tour Eiffel, cioè un transatlantico, l'acciaio che sembra inattaccabile, viene distrutto dall'ossidazione, che nel caso del metallo, è la ruggine. Quella ruggine, tradotta in un organismo e in biologia, è l'ossidazione. È quella condizione terribile che compromette la membrana cellulare non consentendo alle cellule di funzionare. Quindi, l'ossidazione del fegato compromette la funzionalità epatica, dei reni, quella renale, del cuore, delle pareti delle arterie, del fegato, dei muscoli, delle articolazioni, delle ossa, del cervello. Un'azione demolitiva del nostro tempio che è il nostro corpo. Viene, nasce, si innesca un processo ossidativo da mille cose. Fumo, la cattiva, gli zuccheri, le preoccupazioni, le tensioni, le tristezze. La respirazione, per quello dicevo, è fisiologica. L'iperossigenazione, l'iperventilazione data dallo sport, non completamente bruciata dal nostro sistema metabolico, fa degli scarti che sono i radicali liberi. Ma non voglio entrare in questo tipo di considerazioni di descrizione. I radicali liberi sono demolitivi per il nostro organismo. Beh, entra il redberry e restituisce quell'elettrone rubato dallo stato ossidativo rimettendo in condizioni ottimali l'organismo. Tra l'altro è molto consigliata per esempio, il redberry è consigliato in alcune patologie anche femminili come la cistite, no? Perché è un'altra magia straordinaria che la scienza ha spiegato. La sua azione è di antiaderenza batterica. Quindi non uccide i batteri come un antibiotico ma non consente ai batteri di aggrapparsi alle pareti e di proliferare determinando una colonia numerosa batterica tanto da diventare patogena. Dall'altra parte è lo stato infiammatorio. Stato infiammatorio che sono felice di vedere in questi ultimi anni a missioni da parte della scienza ufficiale, della medicina ufficiale, l'infiammazione è all'origine di qualsiasi patologia. Allora il grande balzo dal 2009 ho detto sì ci sono sostanze naturali che vi aiutano a risolvere tutti i vostri problemi ma aspetta non arriviamo lì. Cominciamo quotidianamente a inserire nell'organismo quegli antiossidanti e gli antiinfiammatori che non mi fanno arrivare al problema. Ecco perché la pietra miliare della storia dell'umanità la pietra miliare della storia dell'umanità sotto il profilo biologico e della salute e della longevità è la professoressa Blackburn che ci dice proteggete i vostri telomeri perché è così che non si innescano le malattie che manteniamo la nostra energia che viviamo più a lungo e che la qualità della nostra vita rimane altissima fino a ben oltre i cent'anni. Gian Paolo ci resta giusto un minuto effetti collaterali? Benessere gli effetti collaterali sono l'aumento dell'energia la riduzione drastica nell'incorrere in patologie e se ci sono patologie una grande capacità di uscirne oggi ci stanno dicendo chi soccombe davanti a questa pandemia i fragili non dobbiamo essere fragili la fragilità è portata dall'ossidazione e dall'infiammazione togliamoci queste due orribili cose dall'organismo con due alimenti che diventano una buona abitudine quotidiana per quanto tempo? Io spero per me personalmente per altri cent'anni tutti i giorni per sempre fino all'ultimo giorno benissimo quindi possono essere assunti liberamente da chiunque da chiunque a qualsiasi età basta avere costanza insomma non ci vuole molto la mattina ci si prende quei due minuti e questo riesce comunque a garantirci un benessere insomma generale non lo diciamo noi l'ultima raccomandazione sulla curcumina l'ha fatta il professor Veronesi quindi credo che la credibilità di quest'uomo si sia manifestata e dimostrata nel corso degli anni benissimo Giampaolo noi ci vediamo presto molto bene ritornerà nei nostri studi presto e torneremo a parlare appunto di questi due fantastici alimenti grazie per essere stato con noi e grazie a voi per averci seguito alla prossima grazie a tutti